Siamo live, buonasera a tutti, questo è Est & Guest Est Radio da Via Savona 11, io sono Carlo, vi presento immediatamente il nostro super ospite di oggi, Alessio, meglio conosciuto come Lil Kaneki Questo era un inside joke Ciao bro, benvenuto Grazie, ciao Benvenuto, siamo stra felici di averti qua oggi Abbiamo, voi non lo sapete perché ci siete solo in questo momento Tu c'hai quella, io c'ho quella, entrambi abbiamo quella Ma io e Alessio già un pochino, insieme anche a Dand che chiacchieriamo, ci siamo un po' sciolati prima, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato un po' di musica, abbiamo praticamente gli stessi interessi musicali E quindi, frate, ce la chiacchieriamo con calma Disclaimer, esatto, Elisa inaugura la chat perché volevo, stavo appunto per dire Alessio vi legge, vi leggiamo, commentiamo, ringraziamo per i complimenti ma anche degli insulti Prendiamo tutto anche l'hating Va tutto Bro, iniziamo rompendo il ghiaccio in maniera molto easy, io ti volevo chiedere Anche un po' facendo subito riferimento al titolo dell'album, il tuo nuovo album che è crescendo La crescita ha un punto d'inizio che è nella mia testa quando entra la musica nella tua vita Raccontami un po' il periodo in cui incontri la musica, capisci che è una valvola di sfogo e quando accade un po' il tutto Ma letteralmente, cioè, a me è sempre piaciuta, cioè, fottutamente la musica Cioè, stavo in fissa da piccolo, mio padre stava in fissa con i Megadeth, i Motorrad Ok, ce l'abbiamo E tipo, non lo so, mia madre invece stava con il compagno che amo, che è di origine venezuelana E quindi stavamo sempre, tipo, agli eventi reggaeton, che ne so, pure al Fiesta, che è un evento reggaeton a Roma Come no? E da piccolo, proprio piccolo, e ci ho sempre volato, pure sia con il reggaeton, sia con il rock in generale Quella roba, quella wave lì Era bello, perché, sì, vedevo da piccolo, vedevo comunque due, cioè, non due tipologie di persone, anzi no, due balli differenti Sì, due sfere comunque differenti Sì, sempre calde, belle, cioè E poi, diciamo che a dodici anni, alle medie, perché stavo, vabbè, un botto preso male, perché sai, le medie proprio Periodo peggiore della vita, io dico sempre che le medie e lo spogliatoio sportivo sono i due momenti in cui l'uomo viene formato Certo, certo Cioè, gli uomini che siamo oggi, o i sottouomini, parlo per me, il sottuomo che sono oggi è per colpa delle medie e dello spogliatoio calcistico Ma prendi pure tutti gli sbagli, no, che fai, cerchi di non rifare mai più, perché dici, stai traumatizzato Esatto, ed entri in quel circolo in cui invece li rifai costantemente e lì poi ti perdi definitivamente Ma sai che invece ho sempre cercato di non farli davvero, perché mi hanno sempre terrorizzato a un certo punto Cioè, non lo so, stavo... Poi, vabbè, boh, sai, non lo so, dipende Forse più superiori poi a un certo punto Quando... cioè, se continui troppo a restare bambino in certe dinamiche Poi... Sì, no, ti distruggi un po' Sì, ti chiudi sicuramente Sì, devi iniziare a comprande dopo un po' a determinare cose Assolutamente sì, assolutamente sì Almeno provaci No, se sempre Ci si prova Nel senso Il tentativo è sempre la roba più virtuosa comunque da fare Sì, per chiarità Poi ci si riesce o non ci si riesce, raga, non so, insomma E quindi a 12 anni, letteralmente, perché stavo un po' male per sfogarmi Ho iniziato a scrivere dei testi Già da piccolo scrivevo poesie Ah, ok Che stavo in fissa Quindi la roba della scrittura è una roba comunque costante nella tua vita Sì, sì, da piccolino Sì, sì, da piccolo Sì, era molto... cioè, era molto ingenuo in realtà È stato elementare, per l'appunto Mi ricordo aveva nevicato a Roma Avevo scritto sta poesia sulla neve a Roma Cioè, ero proprio innamorato Sì, però nel senso comunque una sensibilità a quello che succede intorno a te No, certo, certo Però sempre con un'ingenuità Cioè, con... Ingenuità, come no? Grazie, scusate Assolutamente Non so schifo a parlare Io peggio di te E con la differenza che... No, no, ma che... Mi metto da questa parte, non da quella Quindi è ancora peggio di te E quindi provavo a scrivere queste poesie rima all'inizio Cioè, nel senso... Perché prima scrivevo poesie Però stavo in fissa da piccolo con le poesie tipo giapponesi, no? Tipo Yaiku Cioè, quindi magari, che ne so, scrivevo quattro frasi su... Non lo so, sugli alberi Su... quando uscivo da piccolo a giocare a calcio, capito? Delle riflessioni brevi su quello che... Sì, sì, pure se magari facevo schifo a giocare a calcio Da piccolo, cioè... Mi mettevano in porta, scrivevo di quello E invece alle medie, siccome avevo una situazione a casa Dove mio padre non lo vedevo Perché, vabbè... Poi trascorsi Sì, sì, trascorsi E pure con mia madre magari la situazione non era una delle migliori Perché sai, no, quella è l'età più difficile Assolutamente Bisogna crescere Quindi ho iniziato a scrivere questi testi Per raccontare un po' quello che stavo vivendo E cercavo di farlo leggere agli amici, no? Cioè, anche se in realtà ad amici ce ne avevo Sì, ma no... Il giusto Sì, esatto Quelli con cui vai alla fiera del fumetto Assolutamente sì A Romics Che vai a Romics Sto parlando di quegli amici E nulla, quindi da là ho iniziato a scrivere in rima Poi ho iniziato a capire che dovevo scrivere su un beat Perché poi quando mettevo un beat non andavo a tempo Eri già a drill, prima ancora della drill No, vabbè, la drill vai a tempo No, 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 sì, sì, scherzavo No, no, però sì, comunque Sì, effettivamente dovevo scrivere su... Sì, su un tempo Su un instrumentale, esatto Su un tempo Perché prima scrivevo e poi mettevo in pratica Adattavi, esatto Però veniva una merda Non so se ci hai mai provato A farlo? Sì, ci ho provato Pessimi risultati Ci è capitato No, però che non hai scritto sulla base Perché in realtà è solo quello il problema È tipo un flusso di pensieri sparse Che mal si adatta effettivamente Però conosco gente che riesce a scrivere sul nulla E poi riuscire a collegare bene Che magari aveva davvero in testa una melodia Una melodia, una top line melodica, eccetera Quindi iniziano a scrivere sui beat Inizio a cercare di comprendere i miei limiti Cioè perché comunque a me Cioè io ho sempre avuto in testa l'idea di provare a cantare Però facevo schifo a cantare Cioè non che adesso sia migliorato Però diciamo che quindi per me il rap È stato proprio il metodo migliore La prima possibilità utile No, no, no Non la prima possibilità utile Anzi, anzi Una possibilità incredibile Per cercare di conoscere tutta la musica Cioè perché in realtà nel rap c'è tutta la musica Chiaro In ogni artista senti un campionamento Un pezzo diciamo old school O se no Sì, sì, sì Proprio canzoni anni 70, 80 La qualsiasi, assolutamente sì È una cultura immensa E quindi quello ti porta ovviamente A prendere la tua strada in vari modi Poi c'è quella tecnologia ormai L'autotune Tutte queste cose L'autotune Vabbè poi il melodine Non solo l'autotune Sì, sì, sì Ci sono diversi Melodine è quello che T'aggiusta un pochino più È meglio, sì Cioè io per esempio il disco nuovo È tutto col melodine Cioè nel senso Non tutta la voce Chiaro Perché se no Non potrei fare live Esatto L'autotune Capito Però diciamo che Le parti che Non so Non potrebbero Cioè Un po' più di pancia Sono corrette Il minimo Sì, sì, sì Ma è giusto Sì, ma è giusto Esatto Essere veri sempre Sì, che cazzo E la comprensione del limite Mi aggancio alla cosa che hai detto È una cosa che Te lo chiedo Non lo affermo Perché chiaramente non lo so Ti sei portato sempre dietro Certo In tutta la tua La tua carriera Il tuo percorso musicale Fino anche ad oggi Effettivamente Forza È la mia unica arma Cioè comprende Dei miei limiti Per cercare di imparare Robbe nuove Cioè se te È una persona Con una cultura Gli fai una domanda Di cui davvero Non conosci la risposta E glielo fai In modo tranquillo Cioè una persona Di cultura Cioè veramente Ti sa rispondere Alla domanda Senza farti sentire Un coglione Assolutamente sì Quindi è giustissimo Riconoscere Riconoscere Se dei limiti E anche aprisse Con le persone giuste Che ti possono Da una mano Ad andare avanti Sbloccare Sempre da te Ovviamente Perché molte persone Non riconoscono I propri limiti Assolutamente sì Sono stato d'accordo Soprattutto per la roba Delle persone Contornarti di gente Che effettivamente Sa quali tasti Toccare di te Ma pure che davvero Non sai una cosa Glielo dici Ma può essere pure Una cosa di scuola Una cosa Cioè io tipo per esempio Non so coniugare Cioè non so coniugare i verbi Cioè faccio schifo Mi dispiace Però io lo dico Magari alle persone Con cui sto facendo un discorso Ok Perché riconosco La mia ignoranza su questo E però Sai quanti amici miei Ma col cuore Invece di prendermi in giro Meno cercavo di dare una mano A coniugare bene Ma sembrava super seria Era nel dip Ci siamo dipadionati L'atmosfera Assolutamente Troppo sul serio Ma queste persone Le hai sempre trovate Vigilante nella tua vita Anche tipo in adolescenza O poco dopo Ma quando ero più piccolo Secondo me l'ho trovata Ma non sapevo come Riconosco Ah ok Perché stavo male Cioè da piccolo Sono stato molto male Però col tempo Conoscendo proprio persone di cuore Che mi hanno davvero aiutato È stato tutto così Cioè facile A un certo punto Certo 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 Possiamo andare avanti E quindi Ah innanzitutto Ti leggo un po' di messaggi Della chat Elisa Dai Ale Stefano Ale via Napoli Redcut Ale Manchi Let's go Grandi raga Bellissima Napoli Spingere Secondo me sarà il sottomem Di questa Di questa puntata Ma no perché in realtà Più che il sottomem Davvero Ormai si usa come intercalare Esatto Esatto E quindi Per ricapitulare un secondo Partita piccolissimo Con dei pensieri Che scrivevi Però la scrittura comunque ti piace Ti dice qualcosa Inizi con il rap Certo Che è stata la valvola principale In cui coniugare Quello che scrivevi Alle basi Eccetera E poi che succede Quando incontri Marco? Quando incontro Marco Che periodo è? Come succede? Esatto Che succede prima? Cioè no vabbè Che La cosa assurda È che effettivamente Secondo me C'è stato tutto un periodo Che ha aiutato Molte persone Che avevano iniziato A rappare A comprendere anche Le varie I vari tipi Di spaccettature Della loro voce Capito? Cioè comunque Venivamo Cioè ascoltavamo tutti artisti Come magari Tentacion O Grand O Younglin E quindi Cioè Loro erano molto rap Molto pure trap Però a volte Avevano delle melodie Incredibili Con cui ci fottevi Ancora il doppio No? Cioè ma pure Nelle rappate Cioè nelle trappate Cioè non voglio Dicchè una cosa Scavalla l'altra Però comprendevi Che esistevano Varie spaccettature Dell'artista Chiaro E quindi Noi Ce l'abbiamo sempre Non avuta Come roba nostra Però come influenza Chiaramente Stavamo in fissa Con quella roba lì Ma sta scherzando Sì ma poi era mixata Senza spendere Tanti soldi Cioè non dovevi andare In uno studio gigante Cioè ti potevi Ricca in casa Mi ricordo che c'erano Posti video iconici Di tentazione Che clava dentro la camera Sì dentro di un armadietto Per assolutamente sì Quegli anni lì Secondo me erano proprio Gli anni Dei sottogeneri Cioè veramente Ascoltavi l'acqua lunga Tra tutto strafigo Ma perché nella realtà Non esiste un genere Esatto Questa è la verità Questa è la grande verità Cioè che poi Dà una mano A tutte le persone A fare davvero Tantissime robe Dominic giustamente Ci dice letteralmente Il soundcloud rap E infatti Infatti Dominic La mia domanda C'era proprio Che ti ricordi Della wave Del soundcloud rap Pazzesco Quando ci leggono Nella mente È un matrix Alla fine Soundcloud rap È stato tutto Per me Bellissimo Cioè ho conosciuto Persone incredibili Cioè che tutto era Qualche volta A becco Magari Adesso un po' più di meno Ma perché ognuno Si è fatto il proprio Cioè La propria strada Si Si è creato il proprio mondo Diciamo Sì sì Ma perché Era così Come wave Viverla è stato Davvero bellissimo Perché c'era una Spensieratezza Di fondo Veramente Sì sì Fare musica Prima di tutto Non che adesso Non lo sia Secondo me Ma no No Non che No ma anzi Le persone Che sto citando Ce l'hanno ancora A voglia Per click Radical La fiamma gang Cioè E altre Un botto Mi dispiace Magari Non riuscire a tutti Le stiamo elencando Così approssimativamente Chiaramente Davvero Tony2mini Cioè Ci stanno un botto Di persone Ziertek Ed è stato proprio Bello condividere Cioè Magari Tony2mini Non mi ricordo Se era proprio Quel periodo Magari è più adesso Però È stato proprio Bello condividere Determinate robe Tipo un palco Ma molto più Con persone poi anche Simili a te Effettivamente Con le stesse passioni Con le stesse passioni Stessi problemi Quella è stata la hit Grossa Secondo me Che c'è tuttora Però in quel periodo L'inqui Magari era meno evidente Poi dormivamo tutti Magari Se beccavamo Facciamo serata Stavamo tutti insieme Fino alle 6 del mattino Chiacchierare Chiacchierare A distronzate A sentire reference Cioè comunque Sentiamo molta musica Cioè la cosa figa Effettivamente Di quel periodo Era pure che davvero Stavamo tutti in fissa Con una roba Che volevamo portare Tutti a modo nostro Ed è un po' la forza Di come è continuata In fondo Ed è lì che In quel periodo Lì conosci Drust effettivamente Sì Drust in realtà L'ho conosciuto Ancora Cioè L'ho conosciuto prima Prima della SunCloud Wave Cioè nel senso Perché la SunCloud Wave Nasce Tipo un anno dopo A tutte le robe Dentazione È quello che dicevamo prima Sì esatto E invece Marco L'ho conosciuto Tipo un anno prima Della SunCloud Wave Cioè ma tipo 5-6 anni fa ormai E letteralmente Avevo una ragazza Cazzo si è passato di tempo Madonna che ansia Mi viene ogni volta E ci penso Avevo Sì mamma Mi è passato Un botto di tempo Cazzo E là Ci siamo invecchiati Sì sì Siamo invecchiati Mamma mia Guardate Beviamo l'acqua Le 5 del pomeriggio Ci sono birro Non c'è niente Ci stanno coetanei nostri Che la vivono La fast life Va benissimo Anche noi in realtà Penso nel piccolo Adesso abbiamo Questa immagine clean Di noi No vabbè Forse è sempre meglio Dalla clean Per carità scusa Assolutamente sì E Marco L'ho conosciuto prima Perché c'aveva una ragazza Che abitava a Tercolano E quindi scendeva a Napoli Con il regionale E aveva un amico Che conosceva Marco E io già Marco Penso lo conoscevo ancora prima Per i gruppi facebook Perché droppava La roba là E' stato troppo bello Beccasso Cioè lui super chiuso In studio Reccava tutti In cosa vi siete Subito uniti? Cioè sai quando conosci Una persona Che bene o male Nei primi minuti Con cui ci pari Dici Cavolo sta persona C'ha proprio una roba In cui mi fitto bene Cioè in cui mi incastro bene Con Marco Qual è stata quella cosa lì? Che in realtà Per quanto Sembriamo il contrario Siamo similissimi Similissimi Cioè La questione è che Siamo davvero simili E anzi le robe Che abbiamo in contrario Secondo me ci danno solo Una mano Ad evolvere Perché in realtà è meglio Costruire Delle cose in contrario Assolutamente Però col tempo Mi sono reso conto Che siamo molto simili E poi di base Diciamo che in quel momento Cercavamo una serietà Che volevamo trovare in due Perché era un periodo Un po' Strano Non si capivano molte cose Non sapevamo Cioè Volevamo Volevamo provare a cantare Capito? In qualche modo Cioè a rappare e cantare Comunque E quindi è stato proprio Cioè Mi sembra che Appena ho fatto 18 anni Ci siamo beccati il giorno dopo Abbiamo iniziato A fare musica insieme Davvero Per inaugurare l'età Sì Stavamo là Ed è la cosa figa Era proprio che stavamo Sui testi A guardarli insieme A vederli bene Cioè era figo Io mi ricordo Quando abbiamo scritto insieme Ritornello di futuro Incredibile Beat Sì sì Poi parliamo anche un po' di futuro Non in il pezzo Ma in giornale di futuro E Se dovessi pensare A una parola Per definire Anche i primi pezzi Degli psicologi Quale potrebbe essere? Penso almeno Cioè Sincerità Cioè nel senso Eravamo ragazzi Stavamo a vivere Quelle robe lì Eravamo roba Sincera Oltre Dovevamo sfogasse In modo sincero Senza Fai mitomani O Sembra Qualcosa Finti Tra virgolette Sì Infatti A me mi dispiace Perché all'inizio Un po' Si percepiva Sembrava un po' così Perché In realtà Non lo so Ma in realtà Io Sta roba qua Ti raccontavo Io vi scopro Su Soundcloud Per l'appunto Con polvere da sparo E mi ricordo Tornavo da un calcetto E questo amico Mi fa no Devevo sentire Sto pezzo Due pezzi C'era polvere da sparo E all'altro Mi ricordo Tutto che tornava Dal calcetto Capito Stavamo lì In macchina Frate Sentiti sto pezzo Spacca E infatti Siamo polvere da sparo Io so No bro Non è possibile Non è vera sta roba Quindi no In realtà Questa Percezione strana Secondo me era proprio vera Era autentica Al cento per cento No no Ma infatti è così Per quello Ho detto sincerità Sincerità No no Spero che sia quella Secondo me Quando ho pensato Questa domanda La prima risposta Era secondo me O autenticità O sincerità Perché avendo trova vera Certo Perché poi Quello che viene dopo Con il magari Conoscere la roba No è una cosa Che viene dopo Non è una cosa Che una persona Pensa mentre sta facendo Quella roba lì Capito È chiaro Certo Allora Poi di recente Avviene il momento In cui Entrami per vostra necessità Decidete di Aprire dei percorsi paralleli Solisti E in quel momento Volevo chiederti Sia cosa provavi dentro Prima Di prendere insieme A lui Questa decisione E se successivamente Quando hai cominciato Il percorso Che poi ti ha portato A fare questo disco Crescendo Era più l'ansia Di rimanere da solo O comunque di affrontare Questo percorso Individuale O il sollievo Di avere Una valvola Di sfogo Ma Cioè Io Allora in realtà Cioè La questione Dei dischi singoli È nata pure Perché Secondo me C'era bisogno Di Di sfogasse Un attimo Con tutto Con tutto quello Che avevamo accumulato Negli anni In maniera singola Nel senso Anche perché Tipo a me È servito molto Perché magari Cioè Quando stavo Con Psicology Essendo in due Soprattutto Il lato Delle produzioni Era molto Cioè Ero molto passivo Ok Cioè Diciamo Ci stavo Magari dicevo qualcosa Ma Siccome c'era Marco Che era Stava imparando Non so come spiegare Ti affidavi su di lui Sì Sì Il chiaro è bellissimo Cioè anzi Io ci volevo Perché dico Ok Magari Adesso lui Mi può tradotto Perché lui Mi ha sempre tradotto Delle robe Che sentivi dentro E riusciva a fare Da tramite Per poi Sempre E è stata davvero Una grande forza Questa Cioè Io devo tutto A Marco Per sta cosa E quindi Diciamo che Però A un certo punto Ho sentito Poi il bisogno Di Di cercare Di riuscire Proprio A esporre i miei sentimenti In una base Capito Ok Nel senso Con Valerio Il lavoro Siccome era singolo È stato proprio Tipo fargli capire Quello che sentivo Le reference Le idee che c'avevi in testa Volevo una melodia Cioè nel senso Valerio ha subito compreso Che magari Di certe melodie Dovevano essere Più trascinate Ci dovevano essere Un po' più scale Dall'alto al basso Cioè per una tipologia Proprio di cantato Certo Perché se senti il disco Effettivamente è tutto Un po' trascinato Passa nel termine Però è pure per Quello stile là Di cantato E il percorso Che ti ha portato Dal rap Tra virgolette Di prima A effettivamente Cantare Com'è stato Affrontarlo Dentro di te E poi concretamente Mi ha aiutato un casino Cioè Diciamo che Allora ho dovuto Prendere lezioni di canto Ok Ce le continuo a fare Anzi Che è una hit comunque Cioè io sono sempre Stra pro di Imparare da qualcuno Che lo sa fare bene No no ma bisogna Bisogna imparare tutto Cioè soprattutto se Ti piace la musica Letteralmente Anche No Un botto di rapper Sanno campionare Sanno Magari Una machine Qualcosa Cioè Sanno produrre Anzi Ma infatti a me Mi dispiace Magari no Secondo me Non esiste nemmeno Questa Questa linea Tra rap Rock Indie Drill Cioè È tutta musica Esatto Però noi che siamo persone Dobbiamo avere le cose L'incasellamento L'etichetta Ok Mi dispiace un po' Dire pure no Rap Passaggio a cantare Però il rap Cioè mi ha dato proprio una mano Sia per le metriche Sia per comprendere Come entrare Su determinate cose Certo Sia poi In realtà Cioè la cosa figa È che tipo No nel rap Bisogna improvvisare E Pure in una jam Bisogna improvvisare È chiaro Quindi è In realtà c'è un filo conduttore Bellissimo Che collega tutto questo Assolutamente sì Un filo rosso Che comunque ritorna Sì Testa di cazzo In questa risposta Però un po' Sì Non è che è proprio Una comfort zone Però diciamo che Tutto il disco È stato fatto Per cercare di Assecondare la canzone Cioè quindi Ogni parte vuota Ha qualcosa che riempie A livello di strumentale Che colma Che può dare un aiuto Alla voce Capito Cioè che ne so Magari su certi ritornelli C'è un synth Che fa una nota sola Lunghissima Che però Ma è basso di volume E te lo percepisci Solo come una cosa continua E quello serve Per dare una mano A entrare E stare nel ritornello In quel modo Cioè Bello Bellissimo Sì 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 Ho colto Ho colto pieno Quello che è Non per fare testa Cioè No no Però sì No però sì È fatto Cioè un po' Sì anche perché Sennò io penso Che un artista Non fa un disco In un certo modo Se non se lo sente Sì sì No Cioè Sì E infatti Come ci dicevamo Anche prima Di insomma Iniziare questa intervista Anche in questo caso Anche in questo disco Anche in questa nuova versione Di te Il timbro dell'autenticità L'hai messo Secondo me Quindi Tutto torna effettivamente Quello che stiamo dicendo Vediamo con della purezza Esatto Sì autenticità Sincerità La sincerità c'è ancora Questo volevo dire Grazie Allora Leggiamo qui F Sì Diciamo una difficoltà Te hai coniugato i verbi Io a leggere I nickname di Twitch Vabbè Sono impossibili Anche i verbi Sono impossibili Ma i nickname di Twitch Sono proprio impossibili Elisa T-Pose Dominic Sorbetto Ci manda un cuore Red Cat Che nostalgia L'Elisa Madonna Il periodo 2001 Ah 2001 2002 Scusate Dei Colmi Ray Che bellino Ale Ale Cucciolo Emo Sempre Dei Colmi Ray E Poi Canzone a cui sei più legato Di Crescendo E io uso L'input di Elisa Per cambiare discorso E inizierà a parlare anche un po' Della tracklist Pezzo per pezzo E ce lo racconti un po' Quindi iniziamo così La canzone Come ci dice Elisa A cui sei più legato di Crescendo Silenzio Dell'album Perché è comunque un pezzo abbastanza post punk Cioè nel senso Come suono E poi Anche perché Lo siamo andati a Cioè non a finire Però A completare la parte di testo Cioè no Che è a Londra Ad Amsterdam Ad Amsterdam Ok Ed è stato bellissimo Perché in realtà Cioè tutto Tutta la canzone È un trip Che mi sono fatto ad Amsterdam Cioè nel senso Ok ok È tutto un viaggione Però vabbè Vabbè Senza spiegare Però Davvero Silenzio Silenzio Io Se Lo dico anche ad Elisa Il pezzo che mi ha più Segnato Angoscia Che me lo stavo sentendo Anche prima in metro E devo dire che Stavo lì Sai quando c'hai tipo Ti stasci a scendere Dalla crimuccia Dalla crimuccia Infatti è sempre difficile Quello live Ok Devo timbrare il biglietto Scusate C'ho gli occhiali da solo E ho detto fortuna E Volevo chiederti Invece quali sono E poi approfondiamo magari Traccia per Angoscia Best canzone Si angoscia bellissima Silenzio Best canzone Concord Grandi raga E le reference di questo disco Quali sono? E vabbè No ne stavamo parlando Esatto Io adesso ci siamo seccati La metà degli argomenti Chiaccando di sotto Con Tante sigarette Esatto Buoni panini al prosciutto crudo Esatto Esatto Incredibile Comunque Vabbè Libertines The Strokes A ruota Interpol Block Party Ho paura di pronunciare il nome male Perché pronuncio sempre i nomi male Klaxon Ok Ovviamente anche Perché Oddio Perché sto sbagliando il nome Mac DeMarco Ah Mac DeMarco come Il king di quelle chitarre C'è sempre paura Di sbagliare i nomi Vabbè Ovviamente anche Arctic Monkeys A ruota Però anche come In realtà tipo Io sono un botto fan del cantautorato italiano Cioè quindi Ci provo sempre In un modo un po' subliminale A cercare di fare delle uscite Tipo Un po' più poetiche magari No no A parte Però sì Proprio delle chiusure A livello di cantato Perché mi piace come Cioè mi affascina molto L'interpretazione del cantautore Cioè perché C'è tutta interpretazione Tutta pancia Certo Quindi c'è Comunque Puria davvero Tenko È stato È stato tutto Per me Cioè Importante Per me tuttora Significativo Eh no è chiaro Di questi gruppi che mi hai citato Per l'80% Sono gruppi che Come ti raccontavo prima Hanno segnato anche La mia adolescenza Insomma tutta la mia passione Per la musica Forse è nata proprio da quei gruppi E Cosa ti ha colpito Cosa ti affascinava di più Da queste figure Comunque del rock Che in modo diverso Ti hanno colpito Rispetto magari Degli artisti più hip hop Rap eccetera Ma Cioè Vabbè Comunque il cantato Il cantato Cioè quello Mi ha proprio rapito Ma poi pure La loro tranquillità Forse sai Cioè nel senso Ok Sono rock star magari Sì I Liberties No Pete Sì Cioè nel senso Sono Degli bei scoppiati Però Cioè Però comunque Io vedo intorno a loro Anche dell'aurea Di Super chill No Rilassatezza Rilassamento Esatto Non per forza Fa i migliori Della situazione Però proprio Desfogasse E cantà Come Come gli veniva Proprio di pancia Cioè Con una bella Cioè con delle belle sonorità Quindi io rispetto proprio Cioè quello è Quello che vorrei rubare Totalmente In realtà Il modo di cantare Cioè la performance Fini a se stessa Perché deve colmare In primiste Che la esegui È certo Una roba del genere Ma sì Ma è È più Sì È interpretare bene le frasi Cioè proprio sentire bene le frasi E poi comunque Parlo pure per Il tipo di voce Cioè nel senso Se hai una voce In realtà super pop Pulita Cioè pure se ti metterai In quel genere lì Suonerai molto pulito Comunque Invece loro lo senti Che c'era qualcosa di sporco Sì E quello a me Fotte la te Cioè ha fotte il cervello Cioè mi piace È figo che la gente Vai live Con quel tipo di melodie là E si fomentano Perché magari so tipo Melodie da pub Certo Sì Ma comunque da concerto In cui Stai lì Tutto carico Con le chitarre La band eccetera No pure Liam Gallagher Cioè per me come canta Lui è tutto Cioè nel senso Tipo Mio Dio Io vado in chiesa A cantare le canzoni di Oasis Tipo Sì Ma poi proprio l'attitudine L'attitudine Bravissimo Lui poi mi sa che si vergognava Di mettere le mani sull'asta E quindi lì nasce la sua Sì metteva le mani dietro Andava col collo storto Che poi in realtà fa malissimo Sì Sia la gola che effettivamente Sì sì Nel top Però questo è verissimo La loro attitudine Era qualcosa di Di impressionante Che è anche in totale Contrapposizione Con quello che magari Vediamo più oggi No quindi Una sorta di attenzione Alla forma Al Più attenzione Alla musicalità Nel senso Comunque loro avevano Attitudine Perché dentro La musica Era come Se stessero su un carro Gigante Capito La base è una cosa Da cavalcar per loro Almeno mi sembra Sì assolutamente sì Facilitati Ma mi sembra Che pure Vasco Rossi In un'intervista Ha detto una roba Del genere Perché sicuramente È il modo migliore In cui riescono A esprimere se stessi E la gente Sta in fissa Perché sente Che ha espressione E non perché Poi è anche molto In realtà immagine Cioè perché ovviamente È anche uno stile Cioè Ultimamente ho visto Il documentario Dei Sex Pistols Su Disney Come no Come no Un po' ci sono rimasto male Perché effettivamente Cioè non Dei Sex Pistols Però del documentario Perché Loro Sembrano fatti a tavolino Però poi Se li analizzi Tutti loro hanno Un po' un'anima musicale Cioè nel senso Sì sono tutti scappati Di casa Ok Nessuno sa Cioè il chitarrista Fanno vedere là Poi non lo so Se è vero Che rimane sveglio Tutta la settimana Però Forse è vero Secondo me ci sta Sicuramente Non so quanto sia Romanzato Non so se è una settimana O cinque giorni Però Quell'animo là Cioè nel senso di Cercare di esprimersi Pure senza aver mezzi Nel caos È molto bello È tanta roba È attitudine pura Come vi dicevi prima Sì Ma Cioè qua in Italia Forse non siamo abituati Molto proprio A questo concetto Cioè del cantare In modo Come viene Di pancia Così Perché siamo abituati Alla canzone Perfetta Infatti Sì esatto La drill La trap Per me È tipo la saltezza Capito Perché è pancia Effettivamente È sfogo Sì esatto Io non riesco Cioè il pop Deve esistere È bellissimo Ci sono delle robe Pop incredibili Stupende Però Diciamo che Nel mio posto Sicuro non c'è Il pop Il pop Nella tua comfort Non c'è il pop Nella comfort Assolutamente D'accordo Alex Spera Dice Digli che il suo hermanito È presente Alex Spera 2848 È mio fratello Mi sa Mi fratello Alexander Mi sa Allora Allora Parliamo un po' di band Invece Quindi raccontami Chi sono questi American boyfriends Che effetto ti ha fatto Avere una band Dietro Anzi All'interno di una band E come ti ha aiutato Anche da un punto di vista Proprio di Di creazione Banalmente Ovviamente È stato tutto Perché Allora Tutto sto viaggio Mi ha accompagnato Valerio Bulla Cioè nel senso Anzi mi ha accompagnato Ma proprio Mi ha fatto da padre Cioè mi ha insegnato Mio padre Esatto Mio padre Mio padre Valerio Mio padre Valerio E quindi Cioè nel senso Tutta la roba Cioè tutto il nostro viaggio Nasce tipo da una traccia Che avevamo fatto in trauma Che si chiama Cido insieme Che è tipo la prima traccia L'abbiamo fatto insieme E da là Un po' Ne abbiamo sempre Cioè Ne abbiamo sempre parlato De cercare di fare Una cosa ancora più musicale Con la band Ma come se fossi no Kaneki And American boyfriends Cioè nel senso Quindi non per forza Ok Una band E basta E anche perché È figo dare un senso Alla band Come di Come no Esiste solo per questo progetto Eh sì Come se fosse un unico Un costruito Cioè non costruito Però che esiste Ma in realtà sì Per questa roba qua Ma molte persone in realtà No ce l'avevano Ma Frankie Valli Se no Sì 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 Assolutamente E quindi ci ha volato Perché comunque Sono tutte persone che conosciamo Da tanto tempo Musicisti bravissimi Cioè Pensa che Adesso Franz Che è il ragazzo Che ha fatto le batterie Per il disco Sta in tour con i Phoenix Cioè Cazzo È tutto bellissimo Phoenix è altro gruppone Vabbè Mi sembra che L'altro batterista Sta in tour Quindi c'è Una cosa Assurda Ma stessa cosa Vabbè Matteo Domenichelli Che Vabbè Lui è tutto Suonava già In altri 3.000 gruppi Incredibili È una di quelle persone Che sai no Comunque con Il tempo Che andava avanti È riuscito a A sta bello Fermo A continuare a fare musica Quella roba lì Certo Sta nel suo Nella sua attitudine Bella Cioè Con lui pure è stato tutto Cioè lui ha recato magari Parti di basso Cioè Tutte le parti di basso Ha recato Matteo Domenichelli Effettivamente E Lui è fortissimo Davvero troppo Bellissima questa cosa Che mi dicevi Che è come se Veramente Un gruppo di persone Sono riunite Per creare Una cosa Che potrebbe anche Essere un unicum Effettivamente Certo Interessantissima Questa cosa Sì Vabbè Un po' Sì È quel concetto lì Proprio figo E Invece proprio a livello Di Ispirazione Come Hai beneficiato Di avere delle persone Intorno Come Come gli American Boyfriends Tipo il cento per cento Il cento per cento Pompatissimo Perché tipo Tutti loro Stanno in fissa Magari Con cose diverse Poi Con cose diverse Ma Nello stesso No Nella stessa Aurea Indie Comunque Sì 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 Indie rock Alternative Alternative Cioè poi Bart Cioè no Sì esatto Che ha suonato le chitarre Che era stato Ciao Però C'era Fabio Grande Pure Incredibile Che suonava nei quartieri E Quindi Ci siamo ritrovati tutti insieme Sì tipo Ognuno Aveva Cioè aveva ben preciso La visione di quello Che dovevamo andare a fare Che era comunque unica Nonostante Le reference fossero diverse Tante persone Cioè però comunque Stavamo tutti settati Infatti è stato Bello 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 Allora Poi parliamo dei live Solo come un cane Come nasce quel pezzo E ti chiedo Nella tua vita Come hai gestito E anche come gestisci oggi La solitudine Certo E che significato ha per te la solitudine Invece la prima qual era Di solo Come nasce il pezzo Come nasce il pezzo Cioè solo come un cane Come nasce Tutto Solo come un cane nasce Perché Niente Stavo con Bulla E stavamo facendo tutte Sessioni Proprio i provini Ok Cioè quindi scheletri Per identificare anche un po' Sì L'identità Perché noi come metodo Cioè del lavoro Abbiamo utilizzato Quello di comunque Cercare di andare con calma Non andare di fretta Per non lo so Fare uscire robe Frettolosamente Certo Quindi cercavamo di curare tutto In ogni minimo dettaglio È giusto E quindi vado là Con una canzone Dei The Strokes Dell'ultimo album Ovviamente non so pronunciare il nome Quindi perdonatemi Ma ci proverò a dirlo Brooklyn Bridge to Chorus Esatto Esattamente Grazie Vado in corner Che cazzo E vado là E tipo Noi la faccio Cioè assurdi sti synth Dobbiamo E da là viene il piano Però di solo come un cane Cioè ispirandoci a quei synth Facciamo il piano Facciamo il piano Ok E tipo parte dopo La prima parte della storia Ok e ce lo scopo pazzesco, quel pezzo lì è assurdo la cosa è culto proprio a livello musicale è una cosa figa bellissima, atroce nel senso buono e quindi nasce così e la solitudine invece sai che adesso non mi fa, prima ne avevo un botto paura, anch'io tantissimo e adesso invece riesco a stare da solo ci riesco, anzi mi piace a volte devo stare da ricerchi non posso stare troppo tempo con una persona se poi sto male ho bisogno del mio spazio ma pure di farse un giro da soli con le cuffiette al parco a pensare ai cavoli tuoi no no no, certo come no assolutamente sì, si può dire quasi tutto su Twitch, quasi quasi quindi cioè sì la ricerco anzi ho imparato pure magari andare al ristorante da solo questa roba è qui sì ma è giusto è giusto bro sono totalmente d'accordo con te e te lo dice uno che invece ha sempre affrontato la solitudine nel modo più tossico possibile nel senso ho pure io privato involvendo continuamente isolandomi sempre di più tanto che io penso che tuttora io non riesco a stare effettivamente da solo cioè se sai quelle classiche sere che torni a casa stanco morto il mare dice io mi leggo un libro mi guardo un po' di telefono youtube e se sto solo non ce la faccio certo mi attacco al telefono e devo comunque stare con qualcuna persona vicino se no proprio mi chiudo ma sempre fatto stra paura no no ma ma per carità non è un discorso no 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 esatto però no sai no quando c'hai bisogno di stare da solo assolutamente sì io mi ricordo che cioè tanto tempo cioè non tanto tempo fa ma già tipo tre anni fa non ci riuscivo quindi dovevo per forza chiamare una persona è esattamente quello che ti raccontavo un amico accanto se no c'avevo l'ansia cosa è scattato dopo che invece ti ha fatto invertire il circolo e te l'ha fatta apprezzare effettivamente vabbè la psicoterapia mi ha dato una mano incredibile su questo c'è proprio una forza gigante assolutamente d'accordo sull'imparata da soli su il saper rispondere cioè nel senso no non per forza cerca di scappare da una felicità cioè ho cercato di scappare dalla tristezza quindi cioè quello mi ha dato davvero una mano infatti certe volte tipo vedo degli amici miei che stavano magari nella mia stessa situazione di due anni fa certo e poi come li abbraccio cioè glielo dico tipo regà andrà meglio c'è un modo c'è un modo per stare tranquilli su questo discorso ma su questo discorso che stiamo facendo certo come no sui amici le cose sullo sta da soli però è importante sta da soli che cazzo assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo quando poi sblocchi quella roba lì che racconti tu anche che poi cioè forse l'unica via è conoscere conoscere se stessi nel miglior modo possibile e quando ti conosci bene riesci comunque a gestire poi tantissime cose di te poi c'è certe volte bisogna visciare il controllo capito il voler cioè il voler controllare la situazione sì quasi ma non è la spasmodica perché dovremmo controllare niente la vita delle altre persone vabbè ma ci mandano a fanculo se ci proviamo allora Giorgia ci chiede sapete dirmi più o meno quando finisce l'intervista che devo studiare Giorgia noi ce la chiacchieriamo quando poi non abbiamo più niente da dirci molliamo che dispiace no ma secondo me era un commento carino infatti poi infatti poi ci ah no un'altra Giorgia dice mamma mia ti voglio troppo bene e Purple Toast vedremo mai il vinile del tuo disco non lo so ragazzi speriamo di sì è comunque una roba un po' di nicchia quindi va compreso va compreso va compreso esatto va assorbito ecco la roba un po' intellettuale c'era un sketch dei De Pizze che faceva troppo sono roba del genere ci vuole ci vuole era cresciuto con i De Pizze e io pure che poi alla fine dice da tutta sta roba tipo no è da comprendere è concettuale e alla fine fa ma mi confermi che è pescopasto è pescopasto certo certo ma è incredibile ma quindi te va in palestra ma pescopa ma è pescopave più vale sappi che aspetta solo il 31 per cantare con te sempre Giorgia mentre Luca viene a Torino domani a sentirti spingere spingere let's go spingere allora vediamo qua lunedì che è il pezzo con Drass io ti chiedo il riferimento a lunedì di raccontarmi un po' come nasce il pezzo cosa volevate insomma trasmettere e qual è la cosa di te che vorresti cambiare ma che non riesci mai a modificare lunedì è un po' il giorno della settimana in cui dicevo cambio settimana spacco tutto domanda di sì 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 lunedì è quel giorno lì carichissimo inizio settimana spacco tutto adesso che ne so immagino faccio la dieta studio un botto per me è più tipo sì ok iniziamo però sto comunque tipo un po' mutato non ho le parole giuste meshto meshto perché vengo dalla domenica tutto tutto accartocciato tutto accartocciato comunque pensate che quel pezzo è nato cioè la reference era un pezzo di Arianna a Riete da venerdì il pezzo io ci sto in fissa beh Riete è fortissimo a me piace un casino e niente ho preso come reference quel pezzo lì ma mi sembra per una parte di come andava la linea melodica che mi piaceva e quindi poi l'ho cercato di riapplicare ovviamente cambiando totalmente quella è la cosa bella delle persone assolutamente una cosa la fai tua e nulla quindi cioè comunque lunedì nasce sia un pezzo un po' problematico cioè io ultimamente mi ritrovo cioè a uscire il venerdì e il sabato e sta sempre un po' annoiato perché ormai è pieno di guardia in giro è davvero sempre pieno di guardia non c'è più quel panico di prima hai meno cose che ti stimolano insomma no sì ma non perché cioè non per qualcosa però comunque mi ricordo tipo ma perfino da me a San Lorenzo prima era molto pieno di gente però cioè così va a periodi cioè qualche volta no è situazione pub serata qualche volta no e però questi ultimi anni tipo mi sono trovato con delle difficoltà a uscire cioè nel senso il venerdì per me è un giorno quasi bello perché lo aspetto ma allo stesso tempo ti crea un po' di ansia ti crea un'ansia assurda tipo capodanno sì ma anche perché cioè fa l'effetto capodanno e ti fa per forza qualcosa cioè se sei contento però c'è c'hai quell'ansia un po' di dover organizzare sì organizza qualcosa che devi uscire che devi per forza andare da qualche parte l'effetto capodanno lo potrei brevettare al cinema capito però ha senso perché siamo ancora giovani no no esatto dobbiamo comunque nonostante la nostra età dobbiamo comunque spingere dobbiamo comunque spingere dobbiamo provare però meno quello che dico mi sforzo e provo a uscire che rapporto hai con la noia invece la noia non lo capisco cioè ho quasi amore quasi odio perché l'amo perché mi fa stare tranquillo a volte perché è una cosa che in fondo non possiamo scappare dalla noia certo però sì diciamo che invece è un'odietta amo ok non ce la faccio certe volte non la sopporto mi crea un po' di frustrazione non so seppure a te succede parecchio soprattutto quando non riesco a sbloccare in qualcosa di produttivo comunque cioè se quel tempo che sto accumulando annoiandomi non mi porta a qualcosa li vado a sbatti quello mi fa prendere benissimo però poi penso oddio però non so una macchina capito non devo per forza no realizzare cioè sì lo devo fare per me perché ho voglia di farlo però cioè quanto cioè a volte mi sono trovato in situazioni dove stavo meglio a lavorare che a uscire a uscire e questo è paradossale capito non può esistere cioè esiste solo perché mi stavo a ammazzare del lavoro e quindi stavo là ogni caso del giorno sì era una sorta di trip di routine che ti hai creato magari in quel momento lì che ti portava così però lì va di sbatti oppure soprattutto quando mi annoio molto non riesco magari a dare una svolta e quindi magari passi un'ora sul letto due ore tre ore poi magari non fai pranzo la quarta la quinta ora che dico non mi riesco a muovere lì vado un attimo sì sì dici devo fare qualcosa ma è giusto è giusto non è che non dobbiamo lavorare o cose del genere però cioè pure no ma la noia è pure produttiva secondo me ti fa comunque pensare se t'annogli hai quel tempo lì per pensare e scavare dentro di te e trovare comunque qualcosa e se trovi qualcosa comunque è una hit secondo me è una hit sì sì allora però sta all'uolo aperitivo a tre euro spacca Giorgia e Luca ancora come l'hai presa l'ho andata a tiktok sulle tue vecchie canzoni di SD di Soundcloud Luca che cosa vuol dire SD chissà vabbè nel frattempo che Luca ci risponde andiamo andiamo avanti allora il pezzo con Villabanks invece prima t'ho chiesto il rapporto che hai con Villabanks perché ne avete fatti di pezzi insieme sì sì ma cioè noi qualche volta cazzeggiando ce lo diciamo tipo famone e p famone e p un disco tipo noi due io ci volerei un casino madonna a partire dal Sensazioni Momentane che è stato anche un megatrend ah tutto vabbè ovviamente quello però la cosa bella è che si è fatto nella purezza capito che è una cosa troppo bella ce l'abbiamo fatta proprio da spontaneità comunque pure in realtà Sensazioni Momentane è uno di quei brani dove lui si è accollato cioè davvero al 100% di prenderla come Wave l'ha fatto benissimo esatto cioè si è un bel amore quello con Banks i featuring come l'hai scelta cioè come tutto un processo naturale sono state le persone che effettivamente stanno sempre circondato franco chino marco villa e vorremmo mettere anche duccio cioè duccio dei bunker piccolo solo che si piccolo solo che per una roba di tempisti non siete riusciti di grande pezza sempre parlando di di franco no facciamo una piccola parola sul tempo sprecato certo per farti una domanda sul tempo no noi adesso abbiamo un'età in cui è un po' non la chiamo di transizione però in cui abbiamo dei recettori un po' più attivi su alcune tematiche tipo diventare effettivamente adulti far fronte a delle robe che magari qualche anno fa non pensavo nemmeno di stessero no e che rapporto hai con lo scorrere del tempo e quindi inevitabilmente poi si riconduce anche al disco con lo crescere effettivamente boh lo scorrere del tempo è un è proprio è uno struggle no ma cioè perché ho passato varie fasi dove cioè all'inizio pensavo no ti sta fermo ti guardavo ruscello andare avanti ora invece lo apprezzo totalmente lo scorrere del tempo lo sto comprendendo non mi fa nemmeno paura in realtà provare a diventare grande cioè nel senso la vera paura è diventarlo cioè al 100% cioè riuscire a farlo bene capito non so come spiegare è più nel performare all'essere adulto piuttosto che poi effettivamente ma parte performare no è cercare di non lo so riuscire a davvero accumulare poi non so non penso tutti i tuoi sbagli o tutti i tuoi errori però forse sì in realtà e non commenterli mai più da grande cioè nel senso riuscire a diventare no sempre la non è per forza che te lo devi no 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 certo porre come obiettivo per carità però penso che tutti cercano di essere la versione migliore di se stessi a volte no cioè ci si prova lo si fa pure per no non riusci a stare tutti quanti in società e per non abbandonarsi totalmente anche forse cioè il tentativo come dicevamo all'inizio il tentativo è sempre comunque la roba più virtuosa che possiamo fare alla fin fine provarci provarci poi come va non è detto che vada bene non è detto nemmeno che vada male effettivamente no bisogna farlo pure per poi per avere esperienze assolutamente sì assolutamente sì e questa secondo me è anche un po' una spiegazione di cosa vuol dire crescere e secondo me anche di della tua interpretazione del crescere che hai messo nel disco cioè prendere quello che è successo nella tua vita comprendere gli errori prendere le cose buone e reinterpretare qualcosa frutto di quelle esperienze lì insomma dei tuoi pensieri e evolvere comunque cambiare ma sì ma perché se no ci incastriamo in no spirali o demoni in cui non ne usciamo assolutamente sì esatto a me è piaciuto questo giro questo giro qua questo giro deep questo giro concettuale questo giro concettuale eccolo momento serio è bello è bello sì e come vedi la nostra generazione questa può essere anche epita io sono sempre stra pro io la vedo troppo bene cioè le zette aspetta aspetta però la vedo troppo bene nel senso tipo dei obiettivi di tanta voglia di fare di fare però ovviamente la vedo male ma nel senso per quello che abbiamo intorno quello che sta succedendo quello che succede collateralmente è molto male quello che ci succede esatto anzi noi siamo lo specchio di quelle robe che succedono là e quindi se tipo non lo so lo stato fa schifo non ti puoi immaginare che i pischelli girano con i sorrisi tutti contenti e libere questo è verissimo questa roba dello specchio è stravera secondo me eh sì nonostante questo ho molta fiducia no no pure io infatti lo dicevi prima io c'ho un botto di fiducia perché vedo che comunque molte persone cioè della nostra età stanno prendendo pure esempi i posti europei i posti esteri magari per la loro cultura di fare determinate cose capito e secondo me va benissimo cioè serve comandare come in Francia protestare in Francia protestare cioè qua è giusto che una cosa che non abbiamo cioè non che non abbiamo però che magari abbiamo sempre fatto in un determinato modo cioè oddio scusa ecco vedi io non so coniugare i verbi no 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 però è giusto cercare di prendere ad esempio le persone che lo riescono a fare meglio di noi capito cioè molto molto meglio cioè quello spirito di fratellanza sì 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 e comunque siamo tutti nella stessa barca esatto di far sentire la propria voce in maniera forte sì ma poi cioè alla fine per me protestare non è manco cioè fa sentire la voce mia no ma è fa sentire la voce di tutti sì c'è nel senso perché alla fine io come singolo individuo non me ne fotte un cazzo cioè voglio che tutti certo tu tu da solo sei una goccia come io da solo sono una goccia però effettivamente poi se mettiamo insieme molte gocce si crea il mare alla fine perché a me qua invece sembra che molte persone in Italia siano l'opposto ma dei partiti politici sto dicendo non dei pischelli no no chiaramente i pischelli no è che sì sembrano come se volessero rappresentare un mare gigante invece fanno proprio la goccia e si chiude e si chiude la loro aurea sì io sono sono d'accordo con te e rinnovo insieme a te quello dicevi prima che comunque percepisco che siamo veramente pieni di idee e questa è una roba che mi stimola da un lato e mi gasa cioè dal lato opposto insomma è una figata che comunque nonostante tutto abbiamo dei cervelli che girano girano bene ma proprio perché stanno tutta puttana esatto è l'unica roba fa il busta fa per mille tipo ok il mondo sta morì però in modalità caio can per dire ma tutti quanti ma secondo me pure chi sta protestando per l'ambiente secondo me non è che esiste un modo giusto per fare le cose lo stanno a fare bene in fondo perché se no che cazzo devono fare? non se ne parlerebbe altrimenti è sempre un po' quel giro là però se no che devono fare davvero ma pensi che qualcuno li ascolterà qui cioè dai su assolutamente assolutamente sono sono su quest'onda qui allora vediamo un po' quindi che rapporto hai con sui muri e autostima? ah vabbè rapporto molto psicologi e ti metto e ti metto pure insieme un'altra domanda di prima che è che cosa pensi di trauma l'ultimo disco ah tutto eh trauma trauma mi è piaciuto davvero tanto fallo pure con Marco perché diciamo che quello è stato un disco dove là lui mi ha cioè mi ha proprio dato una grande mano pure nel cantato pure certe volte per fare delle robe e eppure le prod spaccano e se ne è occupato lui cioè sono stato cioè siamo sempre stati in studio insieme e mi ricordo quando feceva le parti di basso le parti di chitarra cioè o se no si aggiustava determinate cose e non so comunque pure trauma è frutto di un periodo che stavamo vivendo e ci vuole un casino cioè abbastanza problematico cioè stavamo davvero traumatizzati cioè stavo molto peggio l'avete risolti quei traumi di cui parlavate? ma allora cioè non sì perché cioè nel senso io io ho proprio lavorato con una psicoterapia esatto però ovviamente c'è ancora tanto da lavorare cioè in realtà io non mi so qualità del tutto però diciamo che mi sento bene sì adesso mi sento molto meglio e Marco pure ha superato ovviamente le sue problematiche certo certo ma per noi quel disco era quello terapeutico per l'appunto sì allora ch ACRAXTXNXN non è uno scherzo ci chiede qualche settimana l'ho visto da insta che stavi al bunker nuovo progetto insieme è quella traccia è quella traccia è quella traccia con piccolo insomma nel bunker so tutto e allora è un po' una domanda sulla generazione però poi te la muto anche sul tuo percorso ti spaventa il futuro e che ci aspetteremo ci dobbiamo aspettare da Alessio prossimamente anche da un punto di vista di live così raccontiamo anche un po' i live ma dici il mio futuro sì il tuo futuro il tuo futuro non lo so io non so che aspettarmi bro cioè in realtà se posso dire ho della paura però è pure paura in realtà benevola nel senso che mi attiva quella da accogliere esatto sì 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 ho paura ma nel senso che voglio fare altra roba cioè soprattutto in questo mood qui perché mi sento davvero sfogamme e questo lo sento anche nei live proprio cioè nei live mi sto a divertire cioè è una cosa proprio bella cioè a Firenze a un certo punto per quanto stavo a ride ci ho fatto ragazzi scusi sono nel microte ragazzi scusate sto troppo preso bene che è una figata che è figo è figo ma pure loro stavano presi bene cioè è figo perché pure le persone che non conoscono i pezzi sotto li vedo presi cioè nel senso ascoltano cioè si muovono è molto bello questo poi secondo me viene pure apprezzato il fatto che è davvero zero autotune cioè quindi ecco la roba di quei gruppi di cui parlavamo prima sì gli sbagli ci sono ovviamente però certe volte forse più che sbagli sono pure interpretazioni cioè che ne so a live mi viene molto cioè sto molto più di pancia ancora quindi sei preso ti sfogli se voglio interpretare una frase falla un po' più scazzata mi piace cioè assolutamente assolutamente sì quindi raga cioè qui dicono chi ti viene a sentire a Torino chi ti viene a sentire insomma a Milano e più il 31 dove suoni? il 31 a Roma a Largo Veno ok e insomma qua sono molto cariche per i live e insomma ci dobbiamo aspettare comunque tanta autenticità ma speriamo speriamo sempre cercando di farla nel modo più puro esatto ehi ok io ci provo allora raga io le domande le ho finite avete un ultimo minuto per sfondare la chat che vi leggiamo a ruota e ti leggo anche velocemente le domande da Instagram così lo facciamo contenti tutti uscirà mai il disco fisico di Crescendo? facciamo proprio così o no? lo so magari 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 gli psicologi esistono ancora? sì esistono ancora esistono ancora Marco ho beccato una settimana fa quante birre girano per sta Lorenzo? tantissime gusto di pizza preferito? mi dispiace non voglio offendere nessuno a me piace la pizza con le alici buona la pizza con le alici io sono fan delle alici in generale fanno anche stra bene ho scoperto un botto bene fanno perché hanno tipo il collagene quella roba lì che insomma credi di essere maturato rispetto a prima? oddio è sempre una parola gigante spero di maturare spero di maturare come ti vedi tra dieci anni quello un po' di più non so magari spero di vedermi io dico sempre mi auguro in piedi esatto perché comunque vuol dire che è andato qualcosa può essere andato male ma comunque è giusto è bello è bello pure io mi auguro in piedi effettivamente allora ti rubo sta cosa prendi prendi tutta vediamo un po' Effi ti ha ti ha fatto un sacco di domande alcune proprio nemmeno ripetibili e te le faccio leggere off cam il tuo pezzo preferito della storia questa è una domanda che non si fa mai raga per chi ascolta la musica non c'ha un pezzo preferito sì vero vero ammazza raga no gli psicologi qua rispondo io gli psicologi non si sono sciolti è l'ultima che è stata la prima di Peho Caneki lo sai che te amo punto interrogativo un bacione grazie è l'ultima per chiudere 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 smetterai mai di fumare così grande pezza non lo so io ai live sto fumando un casino non dovrei fumare però vabbè non lo so forse ai 27 smetto di fumare esatto come i migliori esatto ai 27 mi riacchia va in rehab mod adesso grazie mille per essere stato qua mi sono divertito troppo e spero che anche tu ti sia divertito e secondo me abbiamo detto proprio belle cose quindi est radio via savona 11 questo est and guest con noi canè che ritorno le trombette trap but